Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della rosa biancoscudata in vista del prossimo campionato di eccellenza. La Nissa ha infatti tesserato il centrocampista argentino Agustin Alejandro Modula, classe 1993. Il nuovo acquisto biancoscudato arriva con un curriculum sportivo di tutto rispetto, avendo raggiunto l'apice della sua carriera nel Chacarita Juniors, squadra che gli ha permesso di esordire nella primera divisione argentina durante la stagione 2017-2018, collezionando 10 presenze. La Nissa lo ha prelevato dal club deportivo Guadalajara, che mirita nella terza divisione spagnola.